ciao e benvenuto su ghiera un giro attorno al mondo dell'orologeria sono pietro e oggi voglio farvi vedere il vicheria levante mk 3 nella versione che mi è stata inviata per la prova come possiamo vedere da subito partiamo a bomba abbiamo una scatola in cartone dentro invece abbiamo quest'altra scatola in plastica che togliamo andiamo ad esaminare da vicino questa referenza mi preme sottolineare che è un sample quindi questo orologio è stato già provato da altri quindi se vedete segni eccetera e dipende da questo abbiamo questo bigliettino promozionale quelli che sono anche i cinturini realizzati da vicheria ed eccoci di fronte alla versione vicheria del levante mk3 silverstone white ovviamente non devo spiegarvi il nome ovvero silverstone white parla esattamente di quella che è la colorazione che è stata scelta per questo orologio è in prezzo lancio ancora per poche settimane di 289 euro poi il prezzo si alzerà a 489 euro come è stato già per il calypso che ho recensito da parte di vicheria ecco che ancora una volta questo micro brand riesce tra tutti a portare ancora orologi ben fatti con buona qualità a prezzi realmente paragonabili solo a quelli che troviamo in cina però con un design fatto da loro analizziamo l'orologio possiamo vedere come abbia un bracciale con un disegno molto semplice con parti satinate e le due strisce centrali che invece sono lucide abbiamo una chiusura classica butterfly con il doppio pulsante non abbiamo nessun nessuna incisione particolare nessun richiamo sulla clasp a quello che è il marchio e possiamo già vedere come al suo interno monti un calibro meccanico in particolare il sigul st 19 calibro che per chi non lo conoscesse o ricordasse si basa anzi è a tutti gli effetti il movimento che fu svizzero di casa venus quindi non è un meccanismo progettato in cina ma hanno ricominciato a produrre con le stesse macchine che hanno acquistato quindi regolarmente dal marchio venus quando è fallito e hanno prodotto questo calibro un ottimo calibro il calibro per quanto riguarda la cronografia meccanica entry level che quindi troviamo su tutti gli orologi che appartengono a questa fascia siamo di fronte ad un crono che è a carica manuale come avete visto all'inizio della recensione ho dato quindi carica all'orologio per iniziare a vederlo battere battere dalla piccola secondina che possiamo ammirare ore 9 dove questa freccia ci fa vedere l'avanzare dei secondi diamo ancora un po di carica e facciamo partire anche la parte cronografica nella parte cronografica possiamo vedere come in modo classico e canonico sia la sfera che è partita dalle ore 12 a segnare quelli che sono i secondi cronografici la seconda che troviamo invece a ore 3 di sfera all'interno della secondina è dedicata a mostrarci quello che è il passaggio dei minuti fino ad un conteggio di 30 quindi questo crono ci permette di cronometrare secondi e minuti fino al fino a 30 minuti il quadrante molto bello con un effetto particolare di questo argento che trovo molto interessante così come le proporzioni che andiamo a vedere all'interno della prova al polso 41.5 mm di diametro distanza da ansa di 48 14 mm di spessore dovuti in modo particolare anche alla bombatura del vetro passo del cinturino canonico da 20 quindi si può utilizzare questo bel braciale oppure sostituirlo con un cinturino magari in pelle racing che secondo me trovo molto indicato visto la natura sportiva dell'orologio possiamo ora andare a vederlo da vicino per ammirare quelle che sono le rifiniture ma già possiamo vedere all'interno di questa inquadratura come sono molto apprezzabili le anse ad elica che abbiamo imparato ad amare su modelli come lo spin master quattro i quadranti disponibili il laguna blu e il mugello black con una finitura sarai mentre invece la versione che stiamo ammirando in questo momento ovvero la silverstone white a questa finitura che ricorda un effetto perla molto interessante c'è poi la limited edition la ino maru che è dedicata al giappone in quel caso il quadrante è definito red cherry quindi molto particolare per chi sta cercando qualcosa che ricordi l'oriente abbiamo una ulteriore peculiarità tecnica di questo orologio ovvero i 100 metri di resistenza all'acqua sicuramente un elemento positivo per chi sta cercando un crono che però possa indossare con disinvoltura nella propria vita quotidiana ogni colorazione avrà solo 200 pezzi disponibili e questi saranno visibili sul fondello la luminescenza davvero buona per essere un crono ho apprezzato particolarmente il fatto che sia stata scelta anche la possibilità di avere luminescenza su quelle che sono le sfere che stiamo ammirando in questo video accelerato ovvero le sfere cronografiche che di solito sappiamo essere troppo piccole per avere anche passa luminescente ovviamente sulla lunetta possiamo ammirare le informazioni che ci permettono di fare il conteggio della cronografia dell'orologio quindi il tachimetro questa è una cosa secondo me fatta abbastanza bene con quelli che sono delle non incisioni ma delle stampe su lunetta con ovviamente i riferimenti principali per fare qualsiasi tipo di conteggio ore 6 possiamo ammirare le scritte levante cronografo e meccanico molto molto semplice ore 12 possiamo vedere il gagliardetto del marchio simbolo del marchio che va a sostituire quello che sarebbe invece un indice poco sotto troviamo la scritta invece biccheria e ancora sotto italian watch company la lavorazione dei sub dial dei piccoli secondi e dei minuti cronografici devo dire è molto bella abbastanza classica con quelli che sono sfere concentriche che però devo dirvi sono rifinite molto bene il bordo argentato che rappresenta il conteggio della parte crono poteva essere fatto invece con un font leggermente più spesso per fare in modo che la lettura fosse più immediata invece in posizioni particolari si fatica a leggere e quindi bisogna riconoscere il conteggio solo dalla posizione della sfera possiamo vedere come le rifiniture generali del quadrante siano fatte abbastanza bene ricordo il prezzo di 289 euro infatti tutto stampato e non ci sono elementi applicati fatta eccezione degli indici e dello scudetto vicheria posto a ore 12 appena citato lo avrete già visto abbiamo sfere di ore minuti secondi cronografici piccoli secondi e minuti cronografici con un leggero bordo azzurrato molto elegante che possiamo poi rivedere anche nella definizione degli indici un bel tocco riammirando il fondello possiamo vedere le scritte generiche che troviamo attorno all'oblò che invece ci permette di vedere l'orologio in movimento quindi 100 metri di resistenza all'acqua zaffero e quelli che sono i riferimenti al marchio e alla referenza che ho in mio possesso la corona impreziosita dal logo a laser è ovviamente a pressione abbiamo visto prima che non ci sono particolari elementi da sottolineare a pressione perché siamo di fronte a un orologio che è manuale di conseguenza mettere una corona a vite sarebbe sicuramente stata una scelta poco azzeccata con la macro possiamo vedere che le rifiniture generali sono abbastanza buone con questa sorta di micropallinato sulla lunetta le satinature che si alterano alla lucidatura che corre tutta lungo la carri e sul bracciale anche vediamo che la satinatura è fatta abbastanza bene ripeto e ricordo tutto commisurato rispetto al prezzo che ovviamente si paga in conclusione che dire beh l'orologio è ben riuscito ha un rapporto qualità prezzo davvero ottimo un orologio con una buona qualità rifiniture davvero interessanti rispetto a quello che è l'orologio in generale bracciale in acciaio con maglie piene pin ovviamente a pressione e una presenza anche sul vetro zaffero di trattamento antiriflesso che ci permette di avere una buona lettura dell'ora anche in condizioni non ottimali sulla lettura devo dirvi sono riusciti con queste scamotage di avere questo blu ma che allo stesso tempo è molto spesso attorno a tutte le sfere e agli indici da quel contrasto ulteriore che dà alla leggibilità del quadrante uno sprint in più quindi devo dirvi l'orologio in questo momento come sempre i riferimenti all'interno della descrizione del video grazie per aver visto questo contenuto vi ricordi cani dove entrare in contatto con me facebook instagram telegram gruppo facebook dedicato alle offerte per gli orologi e tik tok il sito ghiera.it che dite voi viccheria l'ha rifatto secondo me sì ciao ragazzi alla prossima ciao